Una mini discarica delle perifere di Vittoria, pochi metri da un asilo nido, si trova in via 20 Settembre a pochi passi dalla vallata dell'Ippari, poco dopo la via 4 Aprile, accanto ad un cassonetto, un cumulo di Eternit. La denuncia è stata fatta dal papà di una delle bambine che frequentano l'asilo nido. Volevo dire che trovo assurdo che un padre di famiglia debba andare in televisione a denunciare un fatto gravissimo, perché in un paese civile è normale, in una città normale, se un genitore ti dice che accanto all'asilo di mia figlia c'è una discarica abusiva di Eternit, materiale cancerogeno, il comune avrebbe il dovere di intervenire immediatamente, di fare segnalazione all'ASL, di attivare tutti gli organi competenti. Invece a Vittoria no. È da un mese e mezzo che io denuncio che accanto all'asilo di mia figlia in via 20 Settembre c'è una discarica di Eternit e nessuno fa niente. Vergogna. Poco distante dalla mini discarica di Eternit, proprio al ridosso della vallata dell'Iper, un'altra discarica sempre di Eternit. Anche quella da mesi giace senza essere toccata. Accanto lì all'asilo c'è un'altra discarica abusiva, perenne. Ogni tanto viene l'amio con la ruspa e butta tutta l'immondizia, compreso l'Eternit, nel fondo della vallata. Se io sono qui è perché sono arrabbiato, però non voglio rassegnarmi all'idea di vivere in una città sporca. Faccio un esempio su tutti. Io abito in periferia vicino alla piscina. Dall'inizio dell'anno l'amio è venuta a pulire la mia strada due volte in cinque mesi. Due volte in cinque mesi. Solo dopo che il sottoscritto aveva fatto richiesta. Tre, quattro, cinque, sei telefonate ogni volta. Vai alla villa e non viene fatta manutenzione del verde. Sembra un campo di patate. Vai a Scoglitti dove c'è la Bambinopoli sullo Telmida e c'è l'erba alta due metri. È tutto sporco. Lì viene pulito una volta all'anno invece. Quindi o cambiano marcia oppure non lo so che cosa possono fare i cittadini.